C'è chi si chiama Principe, Michele Principe era un manager dello Stato, invece c'è chi si chiama Lorre, c'è chi si chiama Casole, c'è chi si chiama Casuccio. Ecco, non niente succede a Casole, dice che non c'è Lorre e siamo qui per Casuccio e per Lorre e per gli altri due ospiti che sono Piero di Benedetto e Giacomo Terrico. Giacomo Terrico ce lo ricordiamo come un giovane, soprattutto un giovane età, adesso è un po' più maturo, animatore dei villaggi, benissimo. E allora sono qui con noi, siamo qui al piccolo dell'associazione di teatro stabile di Augusta, siamo sempre lieti di ospitare talenti artistici. Allora, siamo qui per presentare lo spettacolo che il 31 maggio voi darete, rappresenterete al centro della notte, si intitola Benur, abbiamo qui il copione di Gianni Clementi. Notate che Casuccio ha la coppola proprio da scena, poi non se la lea perché se no la pelata è ancora migliore della mia, o forse la fa per camuffarsi che non vuole rivelare la sua vera identità, come non vuole rivelare il finale di questo lavoro. Chi facciamo parlare per primo? Vediamo. La regia, allora Giacomo Terrico. Beh, cosa dire, è una commedia contemporanea, parla un po' dello spaccato di quello che succede in alcune famiglie nei giorni nostri, è ambientato a Roma, ci sono due fratelli che in maniera coercitiva sono costretti per cause e vicissitudini che non racconterò, a vivere nella stessa casa. Poi arriva... Come marito e moglie, due fratelli. Un po' peggio di marito e moglie, un po' come aspettando Godò, loro stanno là, un po' lì, dicono, un po' vanno avanti. Se non che arriva questo bellissimo lavoratore non regolare dall'est, esattamente alla Bielorussia, che chiede aiuto appunto perché ha bisogno di trovare lavoro, però paradossalmente, come spesso, purtroppo per fortuna accade, è questo emigrato che aiuta la famiglia. E allora, Roberto Casuccio, e che fa uno dei tuoi fratelli? Sì, io interpreto Sergio, che sono il fratello di mia sorella. Quindi siete proprio conviventi per forza. Perché per forza? Cos'è che vi spinge a convivere? L'esigenza economica ci spinge a vivere assieme, in quanto io sono separato, padre di due figli, sono un ex-estantment caduto in disgrazia. La figura dello stuntman, il fisico del ruolo, ce l'ha, ce l'ha il fisico del ruolo, la seconda parte. Quindi ci sono scaduto in disgrazia. Infatti in disgrazia, è proprio in disgrazia. Si guadagna da vivere facendo il centurione al Colosseo. Ah, è proprio Ben Hurra per questo. Esattamente, il richiamo a Ben Hurra è proprio per questo. È un personaggio spietato, cinico, ignorante. Cigli brutti, diciamo, in siciliano diremmo buzzurro. Abbiamo anche un po' magrado, un po' quarto. A Roma direbbero quattro. A Roma dicono così adesso, sì. A Roma direbbero quattro. E quindi lui vive questa situazione economica di disperata e quindi sceglie di vivere in suo malgrado insieme alla sorella per cercare comunque di andare a... Sbarca il lunare. Esattamente. Ma perché la sorella è la padrona di casa? Come mai? Oppure la vecchia casa paterna? Che succede? In realtà non è svelato nella commedia perché vivono in questa casa. Probabilmente l'hanno trovata in seguito ai loro fallimenti familiari e sono accontentati di questa casa che poi è anche un po' fatiscente e che racchiude un po' quella che è la loro situazione economica e di vita. Perché le centocene di Roma dove è questa casa? Casalotti, ancora più periferico rispetto a me. Quindi è uno spaccato di una borgata di due persone che comunque hanno vissuto dei fallimenti personali e questi fallimenti poi li vediamo anche sulla scena nella loro rabbia, nella loro tristezza, nella loro depressione. Tutto basato sui dialoghi allora, no? Dialoghi... Abbiamo anche molto da scoprire, sicuramente ci sono tante gag comiche e... Come tu? Ma che gag la fa l'orreco? Diciamo che io sono quello che poi alla fine con un uso di dire, dobbiamo un pochettino le soldi di questa situazione economica ma poi c'è qualcos'altro che non sto a dire perché altrimenti togliamo... E poi si brucia e quindi non possiamo. No, ma questa comunque è una commedia che è stata scritta anche per la TV e quindi comunque c'è una struttura che non è il classico due atti ma sono fatte delle scene come se fossero delle fiche perché comunque è stato fatto anche per il cinema e per la TV Ci sono degli spezzoni, diciamo, che dividono gli atti quindi è interessante per questo perché fate delle fotografie della vita quotidiana e il finale, volutamente, fatto da Clementi, è un finale che rimane aperto cioè si lascia aperto perché il pubblico può decidere eventualmente Allora, la signora di Benedetto, me è di Augusta, scusa Sì, assolutamente sì Allora, lei che la prima volta? Mi facci faccia capire Neonfile assolutamente del teatro, è la mia prima esperienza Mi hanno coinvolto in questa grandissima figura Dove l'hanno scoperto? Il casuccio col cappello dove l'ha scoperto? Vabbè, allora, vi raccomando La colpa è la responsabilità di noi Nessuno però, dobbiamo dire che il suo arrivo, nonostante lei sia una new entry Adesso devo dire il new entry Dovevo dire che è veramente all'altezza della situazione Mi permetto di dire che è all'altezza Il temperamento, il potere, poi cazziare il Non mi sembra patito, cioè è proprio nella parte È entrato nella parte il tarico O è casuccio, è vero, non c'è nella parte Un altro mese prima È un personaggio che mi porto dentro sempre Ah, ecco, quindi c'è un'adesione, quindi Non solo al fisico, ma anche al carattere A volte uno dà quello che sente O meglio, aderisce al personaggio Perché in qualche modo, no? Sente un po' le corde di quel personaggio Va bene, allora Benur, Gianni Clementi, 31 maggio Io aggiungerei che Questo è un lavoro, direi, inedito Per I gruppi teatrali per la piazza, sì Sì, perché, diciamo, la particolarità di questo lavoro Oltre, diciamo, che è il contenuto Che è uno spaccato di vita Diciamo, attuale Contenuto importante, certo Contenuto importante, direi Al di là delle gay più comiche che ci sono Poi in dialetto romano Che diciamo diverso E quindi la cena di Benedetto per dare il romanesco? Armazza, oh, armazza Complimenti, è una sicula conterranea nostra Possa, è romanesco, è casuccio Però mi pare che il pugliese di origine lo sbagli No, casuccio, mio padre, ti dà la provincia di dirigente Ah, beh, allora, è siciliano Vabbè, anche lui è palermitano, è siculo Pielorussio Pielorussio Coscio, via Diamo, diciamo, poi spieghiamo In questo momento no Perché magari No, non com'è Chicca, è una chicca Dai, non c'è una chicca Dicevo Non chicco, è una chicca Ma anche una chicca l'ho già data Ho appena detto qualcosa Nel Bielorru, Bielorussio Ad esempio, quando tu ti trovi nel tuo paese statico romano Quando te vai al paese d'origine Dico che stai a Bielorussia Cioè, da televisione italiana Ma che conosci? Io cosa conosci? Conoscio Puppo Puppo, Puppo Puppo Il cantante Puffo, Puffo Ma guarda Puppo Pippo 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 Puppo Piccolo Piccolo Cantante Puppo Conosci Puppo Non capisci Non lo conoscete Come si chiama? Luzio Luzio Dala Luzio C'è una cascina Pippo Va bene Un dialogo Evidentemente Trattori Attenzione Però che Puppo Con la U finale In siciliano E' un'altra cosa Interpretazione Va bene Allora grazie Giacomo Trenico Annunzio Lorea Roberto Casuccio Piera Di Benedetto Al 31 maggio Città della Notte A Di Benedetto A Di Benedetto Adobro